In questa seconda lezione sul capitolo riguardante il contrasto, tratteremo del contrasto cromatico, prendendo degli esempi di immagine che funzionano abbastanza bene a colori e che invece crollano miseramente non appena proviamo a fare una conversione in bianco e nero che non sia perlomeno adeguata. Facciamo la prova, questo è un file che abbiamo già visto prima. Per desaturare io utilizzerò una scelta rapida da tastiera che è mela shift u oppure ctrl shift u per chi utilizza pc che semplicemente toglie la saturazione e basta. Questo è il risultato, vedete bene che da questo a questo noi perdiamo tutto quello che possiamo perdere, ma questo è un file fatto ad hoc, è comunque un file digitale, perciò cominciamo a prendere dei file che siano delle immagini vere. Non stiamo discutendo sulla bontà tecnica o meno dell'immagine, ma solo sul fatto che un'immagine del genere presenta un certo contrasto e funziona bene a colori, mentre se noi andiamo a desaturare vedete che funziona molto meno bene. Altra immagine che abbiamo visto prima, desaturata perde tantissimo. Questa invece presenta già un contrasto di tipo diverso nel senso che il contrasto cromatico è molto forte, ma se anche andiamo a desaturare riusciamo comunque ad ottenere un'immagine che sia ancora abbastanza interessante. Certo tutta la zona dell'inchiostro non è più viva come prima, ma qualcosa c'è comunque rimasto. Altra immagine che senza colori funziona molto male. Un'altra immagine che è paragonabile in qualche modo a quella dell'inchiostro e cioè funziona bene a colori, ma anche in bianco e nero non perde del tutto il contrasto e la percezione per quanto si appiattisca molto. Questa è un'altra immagine che abbiamo visto prima e questo è il risultato se noi semplicemente andiamo a togliere il colore. Qualcosa di abbastanza disastroso. Per finire questa è un'immagine già lavorata, è un file tiff, con un gran dettaglio, un gran contrasto, una gran nitidezza, ma soprattutto molti colori diversi. Se in questa foto io vado a togliere i colori, questo è il risultato. Ho comunque una certa percezione delle diverse forme data dal contrasto di chiaroscuro, ma niente di paragonabile a questo, dove ho dei gialli vicino a dei colori tendenti al blu o al cianco. Verdi e rossi e tutto quanto ci va da dietro. Questo era solo per dimostrare che non tutte le immagini funzionano bene in bianco e nero. La maggior parte però si possono risolvere se solo, invece di buttare via i colori, andiamo a trasformare questi colori in qualcosa che sia bianco e nero. Grazie. Grazie Grazie